buongiorno buongiorno a tutti buongiorno di nuovo buon inizio settimana buon lunedì allora metodo per il lotto di questa settimana da giocare e faccio di nuovo gli auguri su questo video auguri a tutti buon inizio anno e tanta salute a tutti i malati mi raccomando questo è sempre un gioco ok allora questa volta bari napoli nazionale dal 3 gennaio domani martedì 3 gennaio per tre colpi ricordate sempre un gioco ragazzi ok ricordate sempre un gioco e ho cambiato il metodo di fare i calcoli e speriamo che stanno che porta bene tutti quanti ok spero spero con il cuore ragazzi allora le previsioni che sono pronti da giocare eccoli qua il 9 e 32 9 32 ok bari napoli nazionali dal 3 gennaio dal 3 gennaio dal 3 gennaio cosa c'è sì 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 non c'è nessuno ok sì sì no non c'è nessuno non c'è nessuno ok allora perché si intitolata la cagna e ora si agita ok dai vai fuori in giardino dai in giardino ok allora il 9 32 ok di poi chi vuole aggiungere il lambetto anche su tutti ok ambetto anche su tutti di solito hai vista la vita l'è visto la settimana scorsa è uscito lo sull'estratto anche sul 10 al 8 abbiamo fatto qualcosa abbiamo fatto è uscito loro avete visto e speriamo anche questa settimana in ci qualcosa in più ok tra poco preparo e mini dei come ho detto sull'altro video come ho detto sull'altro video che vinto la prossima settimana preparo di nuovo e super all'otto è tanto difficile ricordate sempre un gioco che non ancora scritto si iscrive e attiva il campanellino e speriamo ok ok cosa c'è sì sì dai lascia la bivan lasciala stare a rompere le scatole la piccole la piccole ok va bene buona giornata a tutti aspetta qua un attimo si è spinto a tutto ecco lì qua ok entro oggi pomeriggio ragazzi preparo il milione dei buona fortuna tutti da karim un saluto da nadia e auguro a tutti buona anno a tutti ciao ragazzi ciao ciao tanti auguri ciao ciao auguri buongiorno buongiorno a tutti buongiorno di nuovo buon inizio settimana buon lunedì allora metodo per il lotto di questa settimana da giocare e faccio di nuovo gli auguri su questo video auguri a tutti buon inizio anno e tanta salute a tutti i malati mi raccomando questo è sempre un gioco ok allora questa volta bari napoli nazionale dal 3 gennaio domani martedì 3 gennaio per tre colpi ricordate sempre un gioco ragazzi ok ricordate sempre un gioco e ho cambiato il metodo di fare i calcoli e speriamo questo anno che porta bene tutti quanti ok spero spero con il cuore ragazzi allora le previsioni che sono pronti da giocare eccoli qua il 9 e 32 9 32 ok bari napoli nazionali dal 3 gennaio dal 3 gennaio dal 3 gennaio cosa c'è sì 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 non ce ne sono ok sì sì no non ce ne sono non ce ne sono ok allora perché sentite un'altra cagna e ore si agita ok dai vai fuori il giardino dai vengi a lei ok allora il 9 32 ok di poi chi vuole aggiungere il lambetto anche su tutti ok ambetto anche su tutti di solito hai visto la vita l'avete visto la settimana scorsa è uscito lo sull'estratto anche se dice l'otto abbiamo fatto qualcosa abbiamo fatto è uscito loro avete visto e speriamo questa settimana in ci qualcosa in più ok tra poco preparo e migliori dei come ho detto sull'altro video come ho detto sull'altro video che vinto la prossima settimana preparo di nuovo di super all'otto è tanto difficile ricordate sempre un gioco che non ancora scritto si scrive e attiva il campanellino e speriamo ok ok cosa c'è sì sì dai la sabbia lasciala stare rompere le scatole la piccola ok ok va bene buona giornata a tutti aspetta qua un attimo si è spinto a tutto ecco di qua ok entro oggi pomeriggio ragazzi preparo il million day buona fortuna a tutti da karim un saluto da nadia e augura tutti buona anno a tutti ciao ragazzi ciao ciao tanti auguri ciao ciao auguri